E noi possiamo vedere in Lui la nostra resurrezione, e noi possiamo annunciare fin da ora, nella nostra vita, io cammino e camminerò sempre da vivente perché Dio mi ama e io mi fido di Lui. Questa è la verità della nostra fede. Ecco, il salmista vede di fronte a sé proprio questo scenario della tempesta sedata, dell'approdo sicuro, della vita che ricomincia a battere. E noi possiamo insieme con Lui rendere grazie a Dio che da ogni cosa ci libera, ma soprattutto ci ha liberati in Cristo Gesù dal potere del peccato e della morte. Ci ha resi partecipi di questa vittoria, ci ha fatti diventare con Lui figli, con Lui eredi, insieme a Lui, a godere della compagnia dei Santi.